Sarà la libreria Feltrinelli di Arezzo in via Cavour ad ospitare la presentazione di questo tuo primo romanzo. Intanto come si intitola? L'arredatore di interni. Ecco, perché la scelta di buttare, di lasciare su queste pagine questa tua esperienza? Sicuramente per due motivi. Un discorso, una scommessa con me stesso, quindi per dimostrare che potevo essere in grado di farlo. E due, anche per lasciare un segno tangibile ai figli, ai miei figli, perché per dimostrarvi che nella vita poi se si vuole raggiungere un obiettivo e si vuole con passione, con tenacia, ce la facciamo a raggiungerlo. Quindi questo doppio aspetto qua. La forma è il romanzo, perché? Romanzo perché sono un appassionato di romanzi, di gialli, di trille, per cui per me è stato poi naturale, automatico, seguire quel filone lì, quella situazione lì. Senti, è una storia completamente, diciamo, di fantasia? Completamente di fantasia. L'unica cosa a cui mi sono aggrappato d'aiuto sono stati i luoghi, quindi diciamo ho sfruttato luoghi dove ho vissuto, comunque ho visitato, che mi hanno lasciato un pezzo di qualcosa nel cuore, per cui mi è sembrato opportuno poi trasporli anche nella finzione letteraria, però per il resto personaggi, sceneggiatura, trama è tutta opera di fantasia, opera di ingegno. La veste di scrittore è vicina o lontana a quello che invece fai normalmente nella vita? Sì, lontanissima perché lavoro con i numeri dalla mattina alla sera, per cui proprio agli antipodi ho fatto proprio una scelta di, anche una valvola di sfogo rispetto a quello che faccio nel quotidiano, ho deciso di provare un'altra strada, un'altra situazione, per passione, per prova. Senti, prima di chiederti qualche chicca diciamo sulla trama ovviamente senza svelare troppo, la spinta però proprio emozionale è stata la nascita dei tuoi bambini? Sì, la nascita del primo bambino Edoardo, poi siccome la stesura è stata lunga perché poi facendolo nei tempi morti del lavoro mi sono accorsi quasi due anni e mezzo, nel frattempo è arrivato anche il secondo Lorenzo, per cui diciamo che l'energia mi è stata trasmessa dai miei due bambini. Sono stati loro che mi hanno permesso poi di dargli una forma finita e completa a tutta l'opera. Casa editrice? Casa editrice ho fatto tutto in proprio perché ho voluto proprio scommettere su me stesso per cui ho deciso di autofinanziarmi, autoprodurmi, autostampare e vedo poi insomma tocco con mano i risultati strada facendo. Allora, una chicca proprio quella che credi tu sulla trama, su quello che puoi incuriosire coloro che ascoltano? La trama diciamo che ho cercato di strutturare il romanzo in una veste, non lo so, nel senso ho cercato di dargli un po' una spinta emotiva da subito, nel senso che ho cercato di calare direttamente sulle prime pagine il personaggio sulla situazione un po' assurda. Cioè questo americano che è un arrediatore di interni che si è trasferito in Toscana per lavoro, si sveglia all'interno della propria abitazione e si ritrova diciamo nel salotto una donna americana morta fuori dalla porta. C'è una macchina dei carabinieri con due carabinieri morti e da lì diciamo prende poi tutta via la storia e tutta un... cioè scavare anche nel proprio passato per capire come mai siamo arrivati a quella situazione lì e vedere tutto quello che c'è dietro questa situazione. Quindi è un po' tinto di giallo però. Sì, tinto di giallo, dai, tinto di giallo, sicuramente sì.